Loretana, titolare di un pastificio, ha subito un infortunio sul lavoro. Grazie a Inail ha acquistato un'impastatrice adattata alle sue esigenze. Anche in un momento difficile come questo, i progetti di reinserimento lavorativo continuano ad offrire sostegno ai lavoratori vittime di infortuni o malattie professionali. Tornare nel mio pastificio è stato come realizzare un sogno. Scopri come ottenere i finanziamenti su Inail.it Inail, la persona al centro del nostro impegno. Grazie a tutti.